...dare notizia delle due atleti che stavano alle due senzionali. Le vediamo sprecciare dalle immagini qui sul mega schermo. All'arrivo abbiamo immagini diffuse che ci portano sulle varie batterie, nei vari punti. Vediamo che è stato un impatto senza conseguenza di un atleta che, essendo la terza della sua batteria, a questo punto non può sperare che qualche suo avversario incappi nello stesso tipo di problematica, perché altrimenti sarà molto difficile riuscire a recuperare il tempo perso. Intanto, ecco il primo arrivo.